Ragazzi avete voglia di realizzare un dessert facile e veloce? Ho per voi la ricetta molto semplice dessert al limone da leccarvi veramente i baffi. Ci servirà 250 g di mascarpone, 150 g di zucchero a velo, 100 g di succo di limone e 250 g di panna fresca. Per prima cosa versiamo il mascarpone in una ciotola, lo zucchero a velo e diamo una mescolata con un cucchiaio molto velocemente. A questo punto uniamo anche il limone spremuto. Ora mescoliamo con il cucchiaio molto rapidamente e poi ci aiutiamo con le fruste elettriche. Successivamente a parte montiamo la panna fresca. La panna la uniamo al composto di zucchero a velo, mascarpone e limone e amalgamiamo con una spatola dal basso verso l'alto facendo attenzione a non smontare troppo la panna. Per me è già gustosa così, soltanto che va coperta con la pellicola trasparente e deve stare in frigorifero per due ore. Però vi posso garantire che sono soddisfatta, è una meraviglia. Vi consiglio di provarla. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!